Questa gara a Vicenza di Coppa Italia da affrontare, qualificazione ampiamente acquisita all'andata, però il pensiero va anche a questo sorteggio di Champions League con questa trasferta lunghissima in Kazakistan. Andiamo per gradi, ci aspetta Vicenza, vogliamo dimostrare un ulteriore passo in avanti anche perché è l'ultima partita ufficiale prima della Supercupa alla quale teniamo moltissimo e poi ci sarà questa trasferta, si può dire che non siamo stati fortunatissimi, però insomma vedremo di adeguarci a quelle che sono le esigenze. Per quanto riguarda la Coppa Italia non ci sono praticamente problemi per quanto riguarda la qualificazione, quindi qualche assenza e probabilmente ancora alcune giovani inserite nell'undici titolare? Sì, purtroppo ancora parecchie assenze, tante giovani comunque di qualità che non fanno sicuramente sentire l'assenza delle altre, per cui un Verona comunque competitivo. Poi sarà un po' difficile preparare bene la Supercupa perché molte partiranno per le rispettive nazionali? Sì, ci saranno delle partenze sia nazionale italiana che nazionale estere, però sappiamo com'è la nostra situazione, ci dobbiamo adattare e comunque vedremo di prepararla nel migliore dei modi.